E allora andiamo subito a salutare gli amici di Pietre Vive Onlus di Lizzano, cominciamo da Angelo Nisi, bentornato, ecco quando arriva questo periodo dell'anno, quando siamo alla vigilia della Santa Pasqua, chiaramente ritorniamo a Lizzano per parlare di questo evento che si rinnova ormai da 43 anni. E salutiamo anche Angelo Leggeri, Antonio Leggero scusami. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ovviamente entrambi dell'Associazione Pietre Vive hanno ruoli diversi, mi riferisco alla manifestazione in modo particolare perché il Vice Presidente dell'Associazione adesso andrà a presentarci il ruolo che Antonio Leggeri ricopre. Che ricopre per il settimo anno, anche se non sono stati sette anni consecutivi, l'anno scorso ci siamo concessi una pausa, perché cosa interpreta? Quale ruolo interpreta Antonio? Antonio ha l'onore di interpretare il ruolo principale nella manifestazione sacra che noi rappresentiamo a Lizzano, rappresenta Gesù di Nazareth, ne ha i connotati anche somatici a nostro avviso, poi con l'aiuto dei nostri tecnici riescono a dotarlo anche cinematograficamente, parlando di tutti quegli aspetti che lo avvicinerano moltissimo al Nazareno. Ecco, adesso la nostra regia ci sta proponendo le immagini che fanno riferimento all'esperienza dello scorso anno, una grande manifestazione, grande partecipazione, e che pone attenzione alle diverse fasi che caratterizzano poi il periodo pasquale nel complesso. Però viene dedicata attenzione anche alla fase precedente, la resurrezione, la crocefissione e dunque la resurrezione. E quindi l'arrivo di Gesù a Gerusalemme. Sì, ed è un momento di grande festa. Effettivamente noi abbiamo voluto racchiudere gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, partendo dal momento di massimo splendore, diciamo così, che è l'ingresso a Gerusalemme, in cui una folla osannante riconosceva in questa figura il Salvatore, probabilmente anche confondendo poi il ruolo di Gesù, che era il Salvatore delle anime e non il Salvatore dall'oppressione romana. E questa scena, che apre la nostra passione a Lizzano, è particolarmente gioiosa, in quanto la partecipazione di un grosso numero di bambini, di giovani che accolgono Gesù, ci fa sentire dentro proprio quell'emozione che un po' appartiene a tutti i lizzanesi. Ma ecco, vedere le giovani generazioni che si avvicinano a questo avvenimento, con questa partecipazione così gioiosa, ci fa comprendere che forse, al di là della rappresentazione in sé, forse a Lizzano si realizza anche un miracolo di una comunità vivace che si riconosce in questi valori. E allora, andiamo da Antonio Leggeri. che da anni fa parte dell'associazione Pietra Viva, ha ricoperto, prima di arrivare al ruolo principale, diversi ruoli. San Giovanni, mi diceva prima, Angelo Nisi. Poi addirittura il ladrone. Ecco, passare dal ladrone al ruolo di Gesù è indicativo, è indicativo, una promozione, possiamo dire, interna a Pietra Viva. È stata più che altro una sorpresa, perché poi fondamentalmente io, il primo anno che ho ricoperto, diciamo così, il ruolo principale è stato a 22 anni. Quindi comunque, quando mi fu proposta, io pensavo si trattasse di uno scherzo, perché comunque non riuscivo a pensare, insomma, a 22 anni come potessi già ricoprire il ruolo di Gesù, una figura, diciamo, così importante. Una figura che poi deve essere anche rassicurante, in un certo senso, una figura rassicurante per i suoi apostoli. E sì, sicuramente è stato un bel salto, ho ricoperto il ruolo di ladrone, ho fatto il buon ladrone. San Giovanni l'ho ricoperto proprio lo scorso anno, quindi non mi sono discostato tanto dalla figura di Gesù. Ero quello che stava molto, era sempre molto vicino a Gesù. E poi tanto altro. Per un anno addirittura ho ricoperto una figura che poi mi hanno detto che non sono assolutamente, diciamo, portato. Mi hanno detto, non sei proprio credibile, che era la figura del falso testimone, no? Colui che trova la giustificazione adatta per poter condannare Gesù. E mi hanno detto, non sei affatto credibile. Quindi poi dall'anno successivo di nuovo dei ruoli, diciamo così, buoni. Qui è avvocato Antonio Leggeri nel... Di preciso. Ecco, ecco perché non è credibile come falso testimone. Perché un avvocato deve avere sempre testimoni attendibili. Esatto, esatto. E invece poi, insomma, durante gli anni, un anno addirittura ho anche ricoperto San Francesco, però nel, diciamo, un'altra, nel transito di San Francesco. E devo dire che comunque la preparazione che mi è stata data anche dall'Associazione Pietrevive mi è servita molto, insomma, per, diciamo così, poter arrivare poi a, diciamo, ricoprire un ruolo così importante che è un ruolo anche centrale rispetto poi all'andamento di tutta la passione. perché attorno alla figura di Gesù poi ruotano tutti gli altri personaggi, anche se può non sembrare così. Quindi ho compreso anche l'importanza del ruolo rispetto a tutti gli altri attori, insomma. E allora, Angelo Nisi, Antonio Leggeri ha fatto in questo momento una dichiarazione molto importante, un riconoscimento importante nei confronti dell'Associazione Pietrevive Onlus. Quindi anche questo ruolo di educatori, tra virgolette, dal punto di vista cristiano nei confronti, appunto, delle giovani e nuove generazioni. E questo ci fa molto piacere, anche se siamo facilitati in questa opera dall'ambiente in cui noi viviamo ed operiamo, che è una parrocchia francescana. Quindi lo spirito di San Francesco ci permia completamente. Nei nostri gesti di attenzione verso chiunque si avvicina a questa manifestazione, come alle altre, perché la passione di Cristo è una delle manifestazioni che Pietrevive realizza a Lizzano. C'è il transito di San Francesco, come diceva Antonio, ci sono anche altre attività. Ma diciamo che il senso dell'accoglienza, le braccia aperte verso il prossimo, sono delle caratteristiche che appartengono ad ogni persona che abbraccia l'ideale francescano. Queste attenzioni poi, nel momento tecnico, cioè nel momento in cui bisogna studiare le partiture, vengono probabilmente date con quel garbo, con quella delicatezza, quel rispetto verso la personalità degli altri che fanno sì che nel tempo poi si possono avere dei risultati come quelli che enunciava Antonio, che tra l'altro è un associato, voglio dire, non soltanto una persona che si avvicina all'avvenimento, come accade per centinaia di altre persone che vivono l'esperienza della passione in quel momento, stanno con noi in quel momento, godono dell'ambiente di serenità che ovviamente si respira lì, e poi magari tornano alle loro case portando questa esperienza di vita comunitaria come un bellissimo ricordo. Posso dire... Anche come un arricchimento, eh? Posso dire che non c'è Lizzanese che non abbia vissuto con un proprio familiare l'esperienza della passione, che rimane per tutti un punto fondamentale. Per noi è sempre stato un punto di arrivo, mai un punto, diciamo, un punto di partenza, mai un punto di arrivo, perché per noi ogni anno è una nuova esperienza, una nuova occasione di incontrare gente nuova che si avvicina al messaggio di Gesù Cristo, e noi con questi moderni mezzi cerchiamo di fare apostolato. Ci riusciamo, non ci riusciamo? Il Signore sa se la nostra opera poi sarà meritoria, ecco. Un'impostazione francescana, dunque la vostra. Assolutamente. Ecco, e questa sarà un'edizione speciale, c'è anche Papa Francesco quest'anno. C'è anche Papa Francesco, che ci ha riempito di un grandissimo orgoglio, se posso usare questo termine, perché il nostro cammino francescano vede una realizzazione nei gesti, nella concretezza di questa figura, che probabilmente va un attimino a scompaginare quella che era l'immagine austera, se vogliamo, della Chiesa, che con Papa Francesco invece assume quelle caratteristiche di prossimità, di vicinanza all'altro, che sono insite nel messaggio francescano, dove il fratello, si parla di fraternità. Antonio, come io, prima di lui, siamo stati dei formatori, degli animatori di comunità francescane, della Gifa, della gioventù francescana, che ci ha permeati, ci ha dato, diciamo così, contezza di quei valori che soltanto il francescanesimo assume. E quindi comprendiamo la gioia di quanti francescani nella vita vivono l'esperienza del nuovo Papa come un segno quasi di un dire, allora è vero, si può realizzare. Bene, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi ritorneremo con i nostri amici di Lizzano a parlare della manifestazione che avrà luogo proprio il giorno delle Palme, domenica 24 marzo, e quindi parleremo anche degli altri ruoli del movimento che questa manifestazione crea, un movimento sicuramente afferente alle emozioni e ai sentimenti in primo luogo, ma poi c'è anche un movimento davvero di un'intera comunità che si prodiga per dar vita a quella che è una tradizione più che consolidata, 43 anni sicuramente sono tanti, ma che soprattutto rappresentano, come diceva Angelonisi, il punto di partenza, perché ogni volta bisogna ripartire con l'entusiasmo e la carica giusta per poter affrontare la quotidianità nel migliore dei modi, a tra poco. Dicevamo dunque un'intera comunità che si mobilita per dar vita a questa grande manifestazione. Ricordiamo, Angelonisi, le comparse, quante sono che vanno poi a ravvivare, e a concretizzare poi questa rievocazione? Allora, i partecipanti a questa saga rappresentazione sono, mi pare, 143-144, ma più o meno questa cifra, ma sono quelli che poi vestono gli abiti degli uomini di quel tempo, in realtà poi ce ne sono altrettanto che lavorano dietro le quinte, come si direbbe, tra tecnici, tra Sartoria, tra i falegnami che stanno allestendo proprio in questi minuti le scenografie. Quindi possiamo dire l'intero paese che si dà da fare. Sì, l'intero paese, in varie forme e in vari modi possiamo dire che tutti collaborano per la buona riuscita della manifestazione. Ecco, per capire bene le proporzioni, ricordiamo quanti abitanti fa Lizzano? Lizzano sono poco più di 10.000, 10.200 forse. Quindi, ecco, già solo di comparse, arriviamo a 140, poi il dietro le quinte, che chiaramente coinvolge ancora più persone e professionalità, beh, diventa necessariamente poi l'evento del paese, l'evento di Lizzano. Dunque, una Domenica delle Palme davvero speciale. Speriamo che ci sia, anche dal punto di vista meteorologico, la condizione ideale, perché tutto si svolga come è accaduto sempre, nel migliore dei modi. Noi usiamo dire come Dio vuole, nel senso che ogni cosa che accade è perché lo vuole Dio. E allora, in questa maniera, il Signore ci ha sempre premiato. La costanza e l'abnegazione con la quale si prepara questo avvenimento viene sempre premiato. Se poi qualche volta farà freddo è un problema non nostro, degli organizzatori, ma di chi magari andrà in croce. No, no, effettivamente, fino adesso, forse in un paio di occasioni abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, ma si è sempre portato a termine l'intera manifestazione. Antonio Leggeri, nel suo primo intervento, ha fatto riferimento anche a un'altra sua partecipazione, cioè il transito di San Francesco, nella quale la rappresentazione ha ricoperto il ruolo di San Francesco. Esatto. Ecco, che emozioni hanno provocato, suscitato i due ruoli? Ecco, cosa significa interpretare San Francesco? Cosa significa interpretare Gesù di Nazareth? Beh, interpretare San Francesco per me è stata anche una grandissima emozione, perché come diceva Angelo Pocanzi, noi proveniamo da una famiglia francescana, sono anche stato il presidente della gioventù francescana, quindi arrivare anche a ricoprire il ruolo di San Francesco per me è stata un'emozione grandissima. Il maestro, diciamo. Esatto. Di vita. E anche, insomma, quando abbiamo appreso la notizia della scelta del Papa di chiamarsi, insomma, Francesco I, quella è stata anche un'altra grande nostra emozione. La prima cosa che ho pensato, insomma, l'umiltà, la povertà, la chiesa, che finalmente si fa povera, quello che veniva detto a San Francesco, Francesco va e ripara la mia casa, non vedi che è in rovina. Insomma, queste sono tutte sensazioni ed emozioni che in noi sono state davvero molto forti. Quindi San Francesco per me è stato davvero una grandissima emozione, così come quelle di Gesù, sicuramente due personalità diverse, ma fondamentalmente due personalità così vicine, così molto simili, perché tanto quanto Gesù, tanto quanto San Francesco, si ispiravano a questo ideale comunque di povertà, di umiltà, da un lato San Francesco, dall'altro Gesù, che addirittura lavava i piedi ai propri apostoli, il quale diceva che un padrone non è più grande di un servo, quindi anche un sentimento di uguaglianza tra tutti i cittadini, tra tutti i popoli, quindi sicuramente una grandissima emozione da parte di entrambi, in un certo senso, nell'interpretare entrambi i ruoli, una grandissima emozione, ispirata soprattutto da un sentimento primario che è poi quello della fede, che accomuna tutti noi, tutti i neottori, nel momento in cui, nella veste più propriamente pratica, poi effettivamente interpretiamo tutti i ruoli. Per questo dicevo che, diciamo così, l'Associazione Pietre Vive ci ha aiutato in questo, anche nella promozione non soltanto di momenti, di, diciamo così, prove, durante i quali noi abbiamo potuto, così, prepararci alla sacra rappresentazione della Passione di Cristo, ma dei momenti anche, diciamo, di formazione spirituale, grazie anche alla presenza dei vari assistenti spirituali. Ricordo ad esempio Padre Guido, ho questa immagine che mi rimane impressa sempre. Noi abbiamo un momento, prima di iniziare la Passione di Cristo, di raccoglimento, ovvero tutti gli attori, insieme al nostro, diciamo, assistente, uno dei nostri assistenti spirituali, che è Padre Guido, ci riuniamo nella chiesetta di San Pasquale per, appunto, un momento di raccoglimento al quale pregare Gesù e riflettere su quella che poi, la nostra missione, no, che è quella dell'evangelizzazione, che poi intraprendiamo attraverso la Passione di Cristo. E Padre Guido ogni volta si emoziona, ricordando i momenti proprio della Passione di Cristo, i momenti in cui poi noi andiamo ad evangelizzare il messaggio salvifico della persona di Gesù. E sono dei momenti davvero di grande emozione. Quindi è una, diciamo così, una manifestazione che io consiglio a tutti quanti davvero di, insomma, di partecipare, perché infonde davvero dei sentimenti di grande umanità. Lo consiglio davvero a tutti. E allora, Angelo Nisi, da quello che ci ha appena raccontato Antonio Leggeri, è evidente che non si tratta, per quanto riguarda Lizzano, di una mera rappresentazione, no, è qualcosa di più profondo, no? C'è proprio una preparazione da parte degli attori che non si limitano a recitare, evidentemente, o a fare da comparse. Ma c'è questa preparazione interiore che poi trova il suo apice nel momento in cui c'è questo rapporto, questo contatto con il pubblico, tra virgolette. Con i pellegrini, perché noi amiamo definire quante si accostano a questa manifestazione come dei pellegrini che accogliamo. Infatti, parlando di Padre Guido, mi faceva venire in mente anche a me, perché sono stato coinvolto in questo progetto tanti anni fa, poco più che adolescente, no? E diceva che Dio non ha mani alle nostre mani, Dio non ha volto al nostro volto. E quindi quando noi uscivamo tra la gente, in quel momento non ero più io, Angelo, ma ero quel personaggio lì, il centurione oppure Pilato che ho interpretato qualche anno fa. E quindi dovevo assumere quella personalità tale da far comprendere a quanti assistevano a questa rappresentazione che la storia raccontata per secoli è una storia realmente vissuta e noi dobbiamo testimoniarla ogni giorno con i mezzi che il Signore ci dà. E in questo caso con questa manifestazione che rimane sacra rappresentazione. Chi l'ha pensata tanti anni fa? Erano dei giovani che gravitavano nella nuova parrocchia di San Pasquale e pensarono che forse la gente non aveva più il tempo di accostarsi e leggere i vari momenti della vita di Gesù e forse usare questo metodo di teatralità poteva essere un modo utile per, diciamo così, rivivere, fare memoria di un avvenimento che ha scompaginato la vita di tante persone, come la nostra. La vita di Gesù ci ha cambiato la vita. E poi voglio dire una cosa, mi consenti Nicola, Lizzano per tante ragioni è proprio legato alla passione di Cristo. Non solo perché ci sono i frati che lo fanno, diciamo, per vocazione missionaria, ma nei primi anni del secolo, nel 1900 parlo io, si svolgeva la cosiddetta tragedia. Cioè c'erano nel cinema, Lizzano è dotato di due cinema, oggi in disuso purtroppo, ma nel cinema massimo c'era una rappresentazione scenica della passione, la chiamavano la tragedia, e la particolarità era che parlavano il dialetto. Cioè quindi si raccontava la passione di Gesù usando il linguaggio dei semplici, del popolo. E quindi, come vede, noi abbiamo soltanto ammodernato, utilizzando i mezzi moderni. Come associazione si siamo dotati nel corso degli anni di strutture nostre, di tecnologia nostra, che ci consentono di renderla sempre moderna. Ma il nocciolo e la passione, il Vangelo, non è cambiato niente dal 1900 ad oggi a Lizzano. Viene solo interpretato in base a quella che è l'attualità, la modernità della società. Usando la modernità, ma rimane sempre un momento di preghiera collettiva, come padre Stefano Marchionna, di Venerata Memoria, volle quando istituì nel 71 questo avvenimento. E siccome è un vero e proprio avvenimento quello di Lizzano, Studio Cento tradizionalmente lo segue da anni ormai, e anzi ve lo riproporrà, qualora non doveste avere la possibilità per vari motivi di poter raggiungere Lizzano, ve lo proporrà proprio nel giorno del sabato santo. E allora, io ringrazio i nostri cari amici, i nostri cari ospiti, Angelo Nisi, Antonio Leggeri. Grazie. Buona quarantatresima edizione della Passione di Gesù Cristo. Grazie a voi. Grazie davvero, chiaramente. La saluto voi stesso non solo a tutti gli amici dell'Associazione Pietrevive Onlus, ma all'intera comunità di Lizzano, che si appresta a vivere questo momento di particolare intensità. Ci fermiamo, la linea torna alla nostra regia, poi riprenderemo con il fatto del giorno. Vi ricordo, come abbiamo preannunciato nei titoli di apertura, oggi ritorneremo a parlare della situazione in cui versano i genitori separati e soprattutto i figli contesi. Una vera e propria piaga sociale che la società deve affrontare, ognuno dalla propria postazione. A tra poco. Grazie.